Ciao a tutti, sono Kalki e come promesso ecco a voi la recensione di Donald Quest. Se apriamo insieme il gioco possiamo iniziare. Questi sono tutti i tipi di carte, c'è il mazzo equipaggiamento formato dalle armi rosse e dalle trappole blu, il mazzo carte azione, cioè quelle verdi, i cattivoni, cioè le meteor beast viola, i personaggi, cioè i beast buster gialli, ed eccoli qui, con le loro statistiche e le loro caratteristiche personali. Tra tutti, ovviamente, paperino e topolino. Quindi arrivano le meteor beast con il loro valore di difesa, cattura e di ricompensa. Tra tutti, macchia nera che va al centro. Questo invece è il mazzo equipaggiamento formato appunto da armi rosse e trappole blu, con costo, le statistiche e le innumerevoli carte azione che userete durante il gioco. Vanno pescate una volta per turno. Allestiamo il tabellone. Macchia nera va posto al centro, circondato dalle sue creature. Mi raccomando, coprite sempre la scritta disattivata, che comparirà dopo che le avrete sconfitti. Dopodiché riempiamo le quattro caselle del mercato, pescando le carte, scegliamo i personaggi, mettiamo il mazzo azione, e iniziamo il gioco equipaggiando i nostri personaggi. Lo scopo è attaccare e disattivare i meteor buster per liberare la riga di fronte a noi e arrivare finalmente a macchia nera. Un piccolo esempio. In questo caso il mio attacco è superiore alla sua difesa, per cui riesco a disattivarlo. Inoltre, quando sarà di nuovo il mio turno, il mio potere di cattura è superiore anch'esso al suo, per cui lo batto e vinco la partita. Detto ciò, iniziamo a giocare. Le regole sono molto semplici. Si sceglie un personaggio, si pesca la cartazione ogni turno, e lo si equipaggia comprando le carte, armi o trappola che ci sono nel mercato. Mercato che dovrà essere rimpolpato ogni volta che una carta sarà tolta. Come già detto, dobbiamo liberare la riga di fronte a noi per arrivare a macchia nera. La particolarità è che le Meteor Beast ai lati saranno in comune con i nostri avversari, per cui dovremo avere un minimo di strategia. Inoltre, al lato strategico, si aggiunge che bisogna valutare con attenzione le abilità di ogni carta. Per quanto possa sembrare facile arrivare a macchia nera, non dobbiamo essere frettolosi, perché se nel nostro turno attacchiamo e disattiviamo una Meteor Beast, e il nostro avversario al turno successivo potrà catturarla, privandoci della sua ricompensa. Per cui, prima di attaccare, cerchiamo di avere un minimo di strategia. Personalmente è un aspetto del gioco che mi è piaciuto molto. Infatti, l'interazione con gli avversari, oltre a basarsi sugli effetti di qualche carta azione... L'interazione con gli avversari, oltre a basarsi sull'effetto di qualche carta azione, si basa principalmente sulla gestione degli attacchi nei mostri agli angoli del tabellone. In effetti, se l'obiettivo è arrivare a macchia nera, qual è il senso di catturare i Meteor Beast? A me non importerebbe averli, tanto se li catturo il mio avversario mi ha comunque spianato la strada. Il fatto è che ogni mostro ha una certa ricompensa, che mi sarà utile per comprare carte equipaggiamento. Quindi è molto importante catturarli. Inoltre, se la partita dovesse finire in parità con l'esaurimento delle carte azione, vincerebbe il Beast Buster con il maggior numero dei Meteor Beast catturate. Quindi, fate molta attenzione. In effetti, segnalo che sul finale del gioco la partita potrebbe subire numerosi stalli, poiché a volte il primo a attaccare macchia nera e a disattivarlo è quello che poi perde, perché l'avversario al turno successivo lo cattura. Ah, e a proposito di macchia nera, Paperino e Topolino, incredibilmente, sono gli unici due personaggi a non poter mai sconfiggere macchia nera. Perché? È vero che lo possono disattivare, ma anche col massimo equipaggiamento disponibile, il loro punteggio di cattura arriva a 10, che è anche il potere di cattura di macchia nera. E il regolamento del gioco specifica che per catturare bisogna avere un potere superiore e non uguale. Questo è un piccolo errorino che, se nella prima partita abbiamo mantenuto tale, nella seconda abbiamo deciso di modificare un po' il regolamento. Quindi, per sconfiggere le Meteor Beast, bisognerà avere un potere di attacco e di cattura maggiore, ma solo per macchia nera il potere di cattura può essere maggiore uguale. È un piccolo suggerimento che vi consiglio di adottare. Mi raccomando, non espandete la regola del maggiore uguale a tutta la partita, altrimenti catturare il Meteor Beast sarà troppo semplice. Un altro suggerimento. Per rendere le cose più interessanti e per non fare litigi sulla scelta di Paperino, perché, parliamoci chiaro, sceglieranno tutti Paperino, consiglio di sorteggiare la scelta dei personaggi. A proposito della sorte, per quanta strategia potrete applicare, in effetti l'influenza della fortuna è ancora troppo potente in questo gioco. Infatti ci sono alcune carte che, se pescate da subito, consentono di spianare rapidamente la strada davanti a sé. E l'altro giocatore, per quanto abile, non riuscirà mai a colmare il gap. Qualche altro appunto che posso fare è che, in effetti, qualche valore ricompensa effetto è un po' sbilanciato. Forse le carte equipaggiamento e trappola risultano essere a volte inesauribili dato il loro numero. E forse avrei diversificato un po' di più qualche carta. Perché? È vero che i nomi delle carte equipaggiamento sono tutti diversi, ma gli effetti e le statistiche a volte tendono a essere ricalcati. Magari potevano variare un po' di più per rendere il gioco più interessante. Il numero ideale di giocatori, secondo me, è 4. Perché, avendo tutti i lati del tabellone impegnati e condivisi con gli altri giocatori, ti costringe ad elaborare strategie un po' più complesse. A questo proposito, l'età segnata sulla scatola mi sembra un po' generosa. Il limite dei 99 anni è condivisibilissimo, ma i 4 anni, forse, sono un po' pochini, tenendo conto che bisogna svolgere dei calcoli e avere una buona comprensione di lettura. Qualche suggerimento. Se siete soltanto in due, una piccola regola da aggiungere per movimentare un po' il gioco è che per sconfiggere Macchia Nera bisogna prima sconfiggere tutti i Meteor Beast sul tabellone e non solo quelli di fronte a sé. Questo piccolo accorgimento, oltre ad allungare un po' la partita, aumenterà la durata dell'impiego di alcune carte che sul finale della partita a due giocatori diventano inutili. Al di là di questi errori, che forse potevano essere facilmente evitati, il gioco ve lo consiglio, anche perché con l'aggiunta di queste piccole regole casalinghe le partite diventeranno più interessanti, più divertenti e più difficili. Non dimentichiamoci che stiamo comunque parlando di un gioco da edicola dal prezzo contenuto. Il materiale è di buona qualità, certo, le carte forse potevano essere un po' più resistenti e sentirete la necessità di utilizzare le bustine protettive, ma io in generale non ne faccio uso. Essendo ogni giorno a contatto con voi utenti tramite la pagina del gruppo, so che molti non hanno gradito la serie di storie. Ma non preoccupatevi, poiché il gioco non segue la storia. Sia io che il mio amico abbiamo apprezzato l'idea, lo svolgimento e soprattutto i disegni e le descrizioni, sia degli strumenti che dei personaggi, che risultano essere ben caratterizzati, divertenti e anche ironiche. A questo proposito voglio svelarvi che il mio amico non è un fan di Topolino e l'ho scelto proprio per questo, perché volevo una persona che non avesse pregiudizi sulla storia e favoreggiamenti per l'amore al mondo di Topolino. Per cui, se è divertito lui che non ha niente a che fare con il nostro mondo, sono sicuro che piacerà anche a voi. Adesso vorrei rivolgermi ai creatori del gioco fornendo una piccola analisi dovuta all'osservazione quotidiana del nostro gruppo e della nostra pagina. Questo tipo di iniziative piacciono. Questo gioco, in generale, è piaciuto. L'idea è che non escano sempre i solidi gadget col Topolino. Piace. Avete tutti gli strumenti per creare materiali di qualità e superiore a questo, che rappresenta comunque un buon inizio. E io, non vi prego, ma vi incoraggio a continuare su questa strada. Che altro potrei dire? Ah sì, a proposito della buona qualità e delle caratteristiche divertenti, La mia carta preferita è il panico condensato, mentre quella del mio amico la pentola bollente. Ma c'è una carta che su tutte mi ha fatto davvero, davvero ridere. E questa qui. È semplice e io immagino il dialogo tra i creatori del gioco. Tenete presente che tutte le carte hanno nomi complessi, elaborati, simpatici. E poi c'è questa. E loro si saranno detti, come la chiamiamo? Ma è una rete. Sì, ok, ma come la chiamiamo? Ma è una rete. Sì, ok, ma che nome le diamo? È una rete. Va bene, sì, ma come la chiamiamo? È una rete tradizionale. Eccola qui. Questa carta è né più né meno una rete tradizionale. Ma questa cosa mi ha ucciso. Bene, la recensione è finita. Adesso vi racconto un po' come sono andate le partite. Sostanzialmente io mi sono divertito. E anche grazie all'abilità di qualche carta, ci sono stati momenti di tensione, di gioia e di dolore. No! È mio! Com'è andata? Vorrei dirvi di aver vinto tutte le partite, ma non ho sempre trionfato, in effetti. Potrei avere perso qualcosina, ma di sicuro non ho mai perso la calma. Vabbè, nulla che un buon doppiaggio non possa sistemare. E complimenti! Sei stato davvero, davvero bravo! Oh! Cioè, tu sei stato proprio bravo! Hai vinto onestamente! Comunque qualche partita l'ho anche vinta, eh! Certo, ci è voluta molta concentrazione, e forse alla fine lo spirito agonistico mi ha un po' preso la mano. Voleva vincere, vincere, vincere! Oh, voi non fatelo, però megafoni a parte direi che potete comprare questo gioco e divertirvi con i vostri amici. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima! Con la l'ho, con la l'hai con la che...